Carissimi, benvenuti in paradiso! Buongiorno carissimi e bentornati in Malesia, benvenuti all'Eperenshan Island! Il nostro viaggio qui in Malesia continua, se vi siete persi il primo video ve lo lascio qua in alto nelle schede e anche sotto in descrizione, recuperatevelo nel caso in cui state organizzando una vacanza in Malesia. L'arcipelago dell'Eperenshan è costituito da due isole principali, quella in cui ci troviamo in questo momento si chiama Perenshan Ksil, che è la più piccolina, la più piccola delle due, passeremo qua ben due notti e poi ci spostiamo in quella più grande, così che cercheremo di farvi vedere alcune delle spiagge più belle che ci sono in questo paradiso terrestre. Siete pronti? Andiamo! Ovviamente la parola d'ordine in queste isole è sicuramente relax nelle spiagge bellissime che ci sono qui, sono bianchissimi di una sabbia super fine, il mare è trasparentissimo, ci sono le palme sullo sfondo, insomma ci sono tutti i presupposti per passare una bellissima vacanza in totale relax, in totale armonia con la natura. Le isole Perenshan sono tra le più belle isole di tutta la Malesia, sono infatti molto turistiche, quello che però stiamo notando in questo momento è che in realtà ci sono pochi turisti. Su quest'isola ci sono due spiagge principali, quella in cui si trova il nostro resort, che si chiama Coral Bay e poi c'è l'altra che è un po' più grossa si chiama Long Beach, quella in cui se cercate un po' di vita vi consigliamo di andare soprattutto alla sera, ci sono degli spettacoli, c'è un sacco di gente, ci sono un sacco di ristoranti in più, la nostra spiaggia diciamo è molto più tranquilla. Queste due spiagge sono collegate da un sentiero che in una decina di minuti ti permette di raggiungere sia una che l'altra e lo stiamo facendo adesso per andare a Long Beach perché da lì cercheremo di prendere un taxi bot, una barchetta che ci porta in altre spiagge che non sono raggiungibili a piedi. La bellezza di queste isole è che non ci sono strade, non ci sono quindi macchine, non ci sono scooter, si va solo a piedi oppure con i taxi bot. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questa, cari amici, era la The Lagoon Beach. Adesso ci è venuto a prendere il nostro amichetto con la barchetta e cambiamo spiaggia. Ve ne facciamo vedere un'altra, sempre l'isola piccola delle Perenshan. È veramente bellissimo qua. Probabilmente sembrerò ripetitivo però è davvero così. È veramente un paradiso, è stupendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo notato con gli squaletti, i baby squaletti. Sì. Sì. Bellissimo. Che figo, raga. Fighissimo. Stai piacendo Giulia? Sì. Molto. Abbiamo trovato una spiaggetta in cui ci siamo praticamente solo noi. È bellissimo. a due minuti davvero da Coral Bay con la barchetta, si arriva qua e relax, più totale. a due minuti davvero da Coral Bay con la barchetta. Questo che vedete alle mie spalle è il resort dove stiamo dormendo, dove stiamo vivendo passando le notti qui nell'isola piccola dell'Eperention, ci stiamo trovando benissimo. Siamo al terzo livello, la vista è direttamente sulla spiaggia. È veramente bellissimo. La colazione è inclusa e quindi è super consigliato. Non è caro, non è tanto caro perché comunque l'Eperention sono delle isole abbastanza care. In realtà noi l'abbiamo pagato 40 euro a notte. Quindi diviso due fa 20 euro a testa che è più che abbordabile, più che accessibile. Dopo tre giorni in questo piccolo angolo di paradiso ci spostiamo a Besar, l'isola grande dell'Eperention e passeremo lì due notti e quindi cercheremo di scoprire altre spiagge meravigliose in quell'isola. Andiamo! ... ... Benvenuti a Beer Beach. Questa spiaggia sicuramente è più trafficata rispetto a quella dove eravamo prima, soprattutto perché abbiamo il punto principale in cui è possibile vedere le tartarughe in mare e ce l'abbiamo proprio a due minuti a nuoto dalla nostra spiaggia. Infatti molte persone vengono qui facendo un'escursione, quindi noleggiando una barchetta vengono in questo punto per vedere le tartarughe, invece noi partiremo dalla nostra spiaggetta con le maschere e nel giro di veramente un minuto a nuoto andremo a vedere le tartarughe e ve le faremo vedere anche a voi. Non vediamo l'ora, voglio troppo vedere queste gigantesche tartarughe che nuotano, deve essere una cosa super emozionante. Grazie a tutti. Mi sono già innamorato di quest'isola, di Besar, è veramente stupenda. Questa è Pier Beach, la spiaggia dove si trova il nostro resort, che si affaccia proprio sulla spiaggia e abbiamo nuotato con le tartarughe. È stato veramente bellissimo, super emozionante vederle nuotare, sono anche abbastanza veloci. Queste isole raga sono veramente stupende, se venite in Malesia ovviamente dovete includere l'Eperation Island nel vostro tour perché è stupendo, è veramente magnifico. Ci hanno appena dato le chiavi della nostra stanza, adesso entriamo insieme e ve la facciamo vedere. Qua cosa c'è? Il bagno. Il bagno moderno, bello, bellissimo. Wow. E beh, non vale dai. Molto carina. Questa è la nostra stanza con... Il Nescafè. Con... C'è un'altra porta lì. Lo vediamo. Wow. Ah, vista piscina. E già. Dio. Ti piace? Molto bello. Molto molto bello. Lo consigli? Sì. L C'è un'altra porta. Se c'è una cosa che non sopporto dell'essere umano E che lasciamo un sacco di sporcizia in giro Anche in posti paradisiaci come questo Stamattina abbiamo trovato un sacco di lattine sulla spiaggia Si vede che qualcuno magari ieri sera le bevute Vista mare ovviamente eccetera Però non si fa, non si fa Bevetevi la vostra cocchina sulla spiaggia Godetevela Però poi una volta che la finite Buttatela nei rispettivi cestini Non si fa Grazie a tutti Questa spiaggia è pazzesca Perché basta semplicemente camminare Proprio sul bagnasciuga E si vedono i piccoli squaletti E anche le razze Cioè piena di razze È incredibile Nuotano proprio a riva E si vedono proprio a occhio nudo dall'alto Non solo con le maschere Ed è incredibile Oggi le abbiamo viste un sacco Anche semplicemente solo camminando qui Ed è veramente pazzesco Non solo spiagge paradisiache però Infatti per le persone un po' più avventurose Ci sono anche un sacco di trekking Che si possono fare Totalmente immersi nella giungla E adesso ne facciamo uno Let's go Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima ci mancava solo più la palude mi tocca passare per la palude ci siamo quasi dopo più di un'ora dovrei essere arrivato inizio a vedere delle strutture vediamo dove ci ha portato questo trekking spero in una spiaggia bellissima ed è come arrivata raga sono arrivato qua io ero qua al pier beach ho fatto tutta la giungla e sono arrivato in questa bellissima spiaggia anche questa parte dell'isola l'abbiamo vista adesso non ci resta che tornare da giulia che è rimasta al pier beach a rilassarsi e terminare la giornata a detta dei locals turtle beach sicuramente la spiaggia più bella di tutta l'isola e in effetti non faccio fatica a capire il motivo non ci sono servizi non ci sono hotel non ci sono ristoranti non ci sono bar non c'è niente si può raggiungere solamente o con i kayak oppure con le barchette c'è la vegetazione che arriva direttamente sul mare c'è la sabbia bianchissima il mare ovviamente quello paradisiaco che ormai ci siamo abituati a vedere in questo incredibile per ancient islands e adesso non ci resta che farci un bagnetto oppure in questa spiaggia andiamo tra l'altro turtle beach è chiamata proprio così non perché si possono ammirare le tartarughe in mare ma perché le tartarughe di notte vengono a depositare le uova ovviamente nei periodi in cui depositano le uova le tartaruga e quindi questa spiaggia è chiamata così per questo motivo la prima volta è stata chiamata il resto della pittà e poi si trova tutto il resto non ci sono fissime non ci sono fissime ma è una città non ci sono fissime non ci sono fissime ma è un'occhio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iscrivetevi al canale per non perdere i futuri video che usciranno su YouTube e noi come sempre ci vediamo ad una prossima avventura. Ciao! Ciao!